Acquisizione clienti, perché è così importante? Oggi rispondo a Gian Nicola che mi chiede Ciao Massimo, perché sottolinei sempre quanto sia importante l'acquisizione clienti? Io faccio il massaggiatore, ho già una base di clienti così grande che fatico stare dietro alle richieste nonostante non abbia clienti nuovi ormai da mesi. Grazie Gian Nicola Allora, questa è una situazione in cui alcuni libri professionisti si trovano e sono quelle persone che lavorano particolarmente bene ma bisogna prima di tutto fare una distinzione Gian Nicola per riuscire a raggiungere tutta questa base di clienti così grande sicuramente li hai dovuti acquisire e quindi punto numero uno, la fase di acquisizione tu sicuramente l'hai fatta magari hai lavorato tramite passaparola, magari hai fatto altro, non importa però devi comunque aver avuto una fase di acquisizione che ti ha portato al punto in cui sei oggi quindi la fase di acquisizione assolutamente ti è stata importante. Punto numero due Allora, nel momento che tu hai la tua base di clienti succederà una cosa nel lungo periodo qualcuno di questi smetterà di venire da te perché è fisiologico c'è chi sta male, chi grazie ai tuoi massaggi guarisce, non ha più bisogno di essere trattato chi magari è un po' anziano purtroppo passa dall'altra parte ora i motivi possono essere tanti ma tendenzialmente il cliente, ogni cliente ha un ciclo di vita che puoi stimare se guardi i tuoi numeri, i tuoi dati, se li hai e capisci che mediamente magari un cliente viene da te per due anni e poi ti abbandona anche se questo numero fosse più lungo perché sei veramente bravo e questi clienti vogliono venire da te per sempre ti troverai a un punto prima o poi che questo numero tenderà a decrescere per forza è proprio fisiologico a quel punto cosa farai? Adesso sei fortunato che hai tantissimo lavoro ma prima o poi tenderà, ripeto, a scendere e ne avrai sempre meno questo però è solo uno degli elementi, il secondo elemento è la voglia o meno di far crescere il tuo business perché è vero, tu adesso sei pieno, non riesci a lavorare più di così di fatto sei uno schiavo del tempo perché ti trovi in una situazione molto critica se tu smetti di lavorare perché ad esempio ti fai male un braccio e non riesci più a trattare cosa succede? Che di punto in bianco ti si ferma tutto il tuo flusso di cassa quindi non hai più nessuna entrata ed è una situazione tipica di tantissimi artigiani e libri professionisti come ovviare a questo problema? Iniziando a lavorare per creare una struttura aziendale invece che una struttura artigianale nel senso che dovresti iniziare a integrare nel tuo staff, nel tuo organico alcune figure che possano aiutarti e ti permettono di guadagnare anche dal loro tempo quindi tu hai dei massaggiatori che lavorano insieme a te puoi magari prendere degli specialisti, chi fa il massaggio shiatsu oppure chi è esperto nel sistemare il mal di schiena chi ti fa l'agopuntura, ora sono solo esempi però nel momento che loro lavorano tu hai delle entrate slegate dal tuo tempo questo è importante Matteo Tazzer, un mio cliente, ragazzo giovanissimo, super in gamba ha due studi, dà lavoro a sei persone e partendo dall'essere un semplice massaggiatore si è trasformato in un imprenditore quindi è sicuramente un passo che alcune persone vogliono fare e per fare questo passo tu hai bisogno costante di nuovi clienti anche perché il problema tra virgolette stesso del tuo lavoro è che se una persona viene da te perché ha un problema, ha mal di collo glielo fai passare perché grazie alle tue mani gli passa questa persona per un po' non verrà più finché non ha di nuovo mal di collo quindi più sei bravo e tendenzialmente meno le persone verranno frequentemente quindi diventa quasi un paradosso in ogni caso immaginiamo un'azienda nuova che apra ha bisogno di questi clienti perché sono una benzina come hai fatto tu e quindi se la tua idea è quella di crescere hai bisogno di un flusso costante di nuovi clienti che si vadano ad aggiungere ai clienti attuali perché tanto ripeto succederà che questo mese 100 clienti il mese dopo magari nei 99 il mese dopo ancora nei 98 e così via la decrescita può essere molto molto leggera e quasi non sentita ma il problema è che c'è e finché hai così tanta fila da compensare queste mancanze non è il problema ma nel lungo periodo tenderanno sempre a scendere al contrario se vuoi crescere, vuoi sviluppare la tua attività inizierà a ragionare da imprenditori non ti basteranno più 100 clienti perché? perché assumerai qualcuno comunque prenderai qualche collaboratore e avrai a disposizione molto più spazio invece di servire 100 clienti al mese ne puoi servire 200 quando raggiungerai il tappo quindi ne avrai 200 puoi prendere un'altra persona metterla in organico e cercare di servirne 300 e quindi è un tipo di crescita che tendenzialmente può andare all'infinito puoi svilupparti puoi fare un franchising puoi prendere collaboratori che lavorano per te i modi sono tanti non è questo il problema il problema è avere un flusso costante di nuovi clienti e questa è la parte veramente difficile ed è importantissimo averne il controllo il problema principale del passaparola è che se c'è significa che sei molto bravo nel tuo lavoro al punto che le persone ti consigliano ai loro conoscenti ma in questo tipo di marketing il passaparola tu non hai nessun tipo di controllo e diventa un problema perché se decidi di inserire una persona in organico e per poterla pagare hai bisogno di 50 clienti in più al mese questi 50 clienti in più li devi andare a prendere in qualche modo e con un sistema di acquisizione clienti efficace tu sai che spenderai X ma ti arriveranno queste 50 persone e quindi puoi iniziare a mettere in moto tutto a pianificare il tuo sviluppo e a creare un'azienda come dio comanda nel senso che non sarai più il pilastro e anche il freno della tua azienda ma inizierai a delegare parti del lavoro in modo che tutto non si appoggi più solo ed esclusivamente su di te perché ripeto è molto molto pericoloso con questo è tutto spero di aver risposto a questa domanda io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo se dovesse succedere un qualcosa Giannicola tipo da domani si dimettono un numero di clienti perché si trasferiscono ora prendiamo veramente una situazione assurda però di punto in bianco queste persone smettono di venire da te per un motivo su cui non hai controllo cosa succede? che tu da domani hai metà del lavoro ed è un problema perché se non hai un sistema di acquisizione clienti che ti permette di andare a rinfoltire la tua base di clienti continuerai a lavorare con metà delle persone con questo è tutto davvero e ti saluto ciao